Cosenza verso il rush finale. Il morale della squadra non è alle stelle, ma la voglia di mettere le mani sull'obiettivo è rimasta intatta. Il pareggio con il Melfi non ha aiutato e la vittoria della casertana sul campo del Monopoli ha reso tutto più complicato in chiave playoff. Ma il calcio può regalare sempre delle sorprese. A tre giornate dalla fine e con due partite al Marulla, i Rosso-Blu si giocheranno la carta del sorpasso contro il Foggia. Ai Rosselli Boys, ora quinti in classifica, serve la vittoria per agganciare la casertana a più tre. Un compito difficile, ma non impossibile. Silani già all'opera, all'allenamento finale non hanno preso parte Cavallaro, Arrighini e Tedeschi a livello precauzionale, ma il trainer Rosso-Blu dovrà fare i conti soprattutto con l'assenza di Vutov. Stagione finita infatti per l'attaccante bulghero, squalificato per tre giornate dopo la rissa in terra lucana domenica scorsa. Dall'altra parte del campo un Foggia in splendida forma. Con cinque vittorie consecutive, l'ultima ai danni dell'Acragas, i ragazzi di Roberto De Zerbi mettono in cassaforte il secondo posto alle spalle del Benevento e sono sempre più determinati a macinare punti per raggiungere gli spareggi promozione dopo la conquista della Coppa Italia. All'andata finì 2-0 per i rossoneri, un risultato che il Cosenza deve assolutamente ribaltare per continuare a sperare. Sarà Andrea Tardino della sezione di Milano a dirigere il match. Fischio d'inizio domenica alle 15. Da Cosenza per la CNews24.